sono un docente del dipartimento di scienze e tecnologie in particolare ho tre insegnamenti su tre diversi corsi di laurea, uno alla triennale e due alla magistrale in cui molto spesso i semplici sistemi di insegnamento non sono sufficienti per trasferire quelli che sono i concetti basilari che riguardano sia lo studio della pedografia che attiene a quello che è il riconoscimento delle rocce, la loro genesi e la loro evoluzione, un corso di laurea di archeometria che non sembrerebbe discostarsi molto da quello che è l'insegnamento del del corso di laurea triennale ma riguarda essenzialmente l'applicazione di tecnologia scientifica su allo studio dei beni culturali in generale, studio di caratterizzazione e conservazione degli oggetti archeologici oppure del costruito storico e poi l'esperienza appunto che poi ci porterà molto meglio a Zareno, però nell'insegnamento di didattica delle scienze della terra nel corso di laurea di scienze della natura appunto in cui nel nostro dipartimento abbiamo dedicato un intero curriculum a quello che è la didattica delle scienze della natura. Quali sono i miei, ma finalmente i nostri come docenti, strumenti che mettiamo a disposizione per gli studenti per l'apprendimento? Ovviamente le lezioni frontali con la didattica tradizionale, didattica interattiva e risorse digitali, risorse digitali che sono state particolarmente utili ovviamente quando abbiamo dovuto affrontare tutti il per la prima volta in maniera intensiva quella che è stata nell'epoca del covid, la didattica a distanza, risorse digitali che in qualche modo sono venute anche a supporto di attività laboratoriali che fanno parte del mio corso, in particolare grande dell'utilizzo di un virtual microscope che è un sito in cui sono raccolte foto di sezioni sottili di roccia. Ovviamente quello che si consiglia generalmente agli studenti per completare l'apprendimento successivamente al rapporto del docente o oltre al rapporto del docente è quello di studiare su libri di testo appunti, video risorse e ovviamente risorse digitali. Quali sono, qual è l'apprendimento dei studenti? L'apprendimento dei studenti noi generalmente, i nostri studenti hanno delle competenze di basi che sono generalmente tecnico-scientifiche, a volte possiamo avere anche studenti che provengono da alte estrazioni, quindi da alte scuole e soprattutto ci siamo imbattuti in quelle che sono problematiche relative a studenti e lavoratori, problematiche nel senso che dobbiamo ricorrere a tensioni più e differenziazioni di quelli che sono i nostri metodi di insegnamento e studenti con disabilità. Ovviamente quindi è un contesto idrogeneo, dobbiamo cercare di essere quanto più inclusivi e un grosso supporto appunto ci viene dalle risorse digitali. Risorse digitali che il nostro Ateneo mette a disposizione anche tramite appunto Joe che ormai usiamo largamente, almeno io uso largamente, per quello che diciamo il contesto generalmente identificato dalle scienze ambientali in cui c'è un settore che riguarda appunto le scienze della terra. Si possono creare delle classi, è possibile andare a confezionare il pacchetto delle lezioni attraverso dei video che sono video essenzialmente didattici in cui mettono molto a risalto quelle che possono essere delle esperienze pratiche da mettere a disposizione gli studenti che molto spesso nei nostri laboratori didattici non abbiamo a disposizione un numero sufficiente ad esempio di reagenti oppure di strumenti per per poter per poter far partecipare in modo ehm univo con tutti gli studenti ma soprattutto eh c'è una parte di approfondimento soprattutto per gli studenti della laurea magistrale in cui si vanno a spiegare concetti ehm di funzionamento di facilities che possono essere a disposizione del del dipartimento ma che possono anche non essere presenti all'interno del dipartimento. Parlo ad esempio della eh diffrazione a raggi X su cristallo singolo eh o principi di microscopia elettronica. Ovviamente quello che è stato interessante scoprire dai video di Giove è trovare quelli che molto spesso ehm abbiamo difficoltà nel trovare esempi giusti per spiegare eh esempi giusti e semplici per spiegare concetti abbastanza abbastanza complessi e uno di questi esperienza eh appunto che ho voluto eh eh riportare è quello del di questo video che riguarda le rocce in intrusive la eh quella che è la eh la genesi delle rocce in intrusive e in un eh in un in una dimostrazione molto semplice il video di Giove poi fa capire utilizzando del succo d'uva qual è qual è il fenomeno fisico per cui si porta alla fusione parziale cioè quando una la sorgente scusate se parlo un po' in termini un po' un po' specifico l'autogente di un di un magma va in fusione ma va in fusione soltanto parzialmente cioè soltanto parte di questa roccia va in fusione oppure con un altro esperimento molto molto semplice far capire come la velocità del raffreddamento di un magma porta alla eh porta alla formazione di cristalli quindi di minerali che sono componenti principali della roccia di formare di forma e di dimensioni eh di forme e dimensioni diverse ehm altre tipologie eh di eh di video come come dicevo prima possono essere molto utili quando c'è necessità di spiegare tecniche che non sono disponibili all'interno del delle nostre strutture all'interno delle nostre facilities come in questo caso eh l'analisi del di eh minerali separazione di minerali da da rocce analisi su cristalli singoli che sono esperimenti generalmente di di cristallografia anche avanzata che permettono appunto di riconoscere eh quello eh la struttura cristallografica e quindi poi cristallo chimica del del minerale eh la cosa interessante è che si spiega nel dettaglio qual è il procedimento come vedere qual è la preparazione del provino per poi essere analizzato e quindi è sicuramente qualcosa di estrema di estrema utilità per per gli studenti anche per una eh una didattica avanzata quindi eh passerei in questo ora la parola a Nazareno per eh spiegarci che con cui abbiamo avuto è uno degli studenti lavoratori con cui abbiamo interagito appunto e ho consigliato l'utilizzo tra le altre cose del degli strumenti di Gio per eh per prepararsi a quello che doveva essere eh a sostenere l'esame di didattica delle scienze della terra e eh in cui noi chiediamo ai nostri studenti di portare a compimento una lezione di un interesse diciamo di interesse generale su cui poter poi eh andare a a trasferire le conoscenze in modo semplice a quelli che possono essere eh studenti di eh studenti o delle scuole medie o delle scuole superiori. Buonasera, grazie di nuovo per l'invito. Eh sono, mi chiamo Nazareno D'Agostino, come detto, sono iscritto al corso di laurea magistrale in scienze della terra eh presso l'università degli studi del Sannio eh indirizzo didattica. Questo percorso garantisce una conoscenza delle discipline relative alle scienze naturali finalizzate però alla divulgazione e alla didattica. Sono uno studente lavoratore e la mia attività mi impegna eh sia la mattina sia il pomeriggio per cinque giorni settimanali. Ovviamente questo pregiudica ogni mia possibilità di poter seguire lezioni ogni eh o qualunque altro tipo di attività eh universitaria. Chi come me poi è impegnato nel settore privato non 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 ha nemmeno tutte quelle opportunità garantite dal diritto allo studio. Tuttavia ovviamente la passione per la per la materia eh ci permette in ogni caso sempre di affrontare tutte queste difficoltà ma con tanto sacrificio. Eh la la didattica a distanza eh che eh che è venuta fuori durante il periodo del periodo del covid certo eh seppure ha garantito un'opportunità per gli studenti per chi ai miei orari spesso risulta un limite ancora ancora più grande perché spesso ci troviamo a dover giustificarci con i i nostri professori di eh di questa rinuncia. Poi eh per quanto concerne poi le attività di laboratorio ancora di più le le campagne e così via queste a noi sono totalmente precluse. Non possiamo non riusciamo a ehm a svolgerle in nessun modo. Quindi lo studente lavoratore deve sottostare ad un rapporto eh di soggezione innanzitutto con i colleghi studenti nella ricerca di opportunità di confronto eh di eh reperimento di materiale eh di studio di appunti di slide o quant'altro. Ehm e come detto anche eh per quanto riguarda tutte quelle attività di laboratorio le escursioni in campagna ehm non riusciamo a farle. Di conseguenza noi cerchiamo quasi sempre eh di eh di rivolgersi alla alla rete e tutti quei video che sono presenti in nella rete. Eh dove però garantirsi una attendibilità scientifica è veramente difficile. Altre volte andiamo sui siti istituzionali che eh quasi sempre sono confusi e in ogni caso limitati. per quanto riguarda eh la mia esperienza con Giove ehm questa si è appena conclusa. Infatti ho sostenuto l'esame di didattica di scienze della Terra 2 eh nei moduli di tettonica e geodinamica e il modulo di vulcanologia e ehm mineralogia. Eh il mio esame si è sviluppato in una lezione in una simulazione di lezione a degli studenti della scuola secondaria. Ehm ebbene ehm diciamo che io ho utilizzato due video presenti nella sezione didattica scienze della natura eh e in particolare eh quello riguardante delle rocce igne intrusive e delle rocce eh vulcaniche igne. Questo oltre a darmi l'opportunità eh di una serie di concetti scientifici argomentati e dimostrati su questi temi ehm mi ha permesso di apprendere delle brevi attività di laboratorio eh che poi ho deciso proprio di inserire nella mia presentazione a corrido. Ogni video infatti ognuno di questi video infatti ehm ha una prima parte relativa alla spiegazione del concetto scientifico. Una seconda parte che riguarda l'attività di laboratorio e una terza parte che ehm diciamo discute delle applicazioni di questi concetti scientifici alla vita reale. Eh detto questo ovviamente non voglio non credo che Giove o qualsiasi altro tipo di strumento possa mai sostituirsi all'attività in presenza per carità ma questo che questo possa essere un supporto a chi come me appartiene alla categoria dei lavoratori studenti eh ne sono veramente certo e sono certo che questo possa aiutare anche lo studente tradizionale perché ti dà quell'opportunità di poter innanzitutto ehm quasi toccare con mano certe attività in particolare mi riferisco alle attività di laboratorio anche quelle attività che sono certo anche la miglior università non riesce a garantire in tempo reale per cui eh credo sia lo strumento giusto. Perfetto. Solo per fare qualche commento finale alla a quelli che possono essere i risultati e i benefici del dell'utilizzo di Giove. Innanzitutto è un supporto per i docenti in cui eh sono inseriti contenuti che appunto sono esplicativi, aggiuntivi e applicativi rispetto ai eh al al soggetto e alla materia o parte di quella materia. Può ampliare quelli che sono gli obiettivi formativi proprio perché è possibile come diceva in azienda toccare con mano anche quelle che sono strumentazioni all'avanguardia non disponibili in un laboratorio molto spesso in un laboratorio didattico e anche dovuto al fatto che molto spesso i laboratori scientifici sono preclusi agli studenti a meno che questi non siano tirocinanti o o laureandi o dottorandi. Per quanto riguarda invece gli studenti sicuramente c'è un coinvolgimento con eh di studenti con canale e tempi di apprendimento differenti eh si visualizzano quelle che sono le procedure sperimentali come si ottengono i dati e come questi si analizzano poi c'è un arricchimento rispetto a quelle che sono le informazioni complementari degli studenti ma e soprattutto i video sono in inglese con una pronuncia che è una pronuncia corretta all'interno del contesto disciplinare quindi c'è anche la possibilità con l'utilizzo dei sottotitoli in diverse lingue tra cui anche l'italiano quelli di poter apprendere in maniera eh opportuna eh un linguaggio tecnico scientifico. Grazie a tutti.